Ciao Nicola, cosa hai mancato oggi per conquistare i tre punti? Penso sia stata una guerra combattuta, soprattutto nel primo tempo Il Toro al primo tempo ci ha messo in difficoltà Forse perché noi abbiamo giocato poco il pallone E poi al secondo tempo abbiamo trovato le misure Abbiamo giocato più il pallone E penso che potevamo anche vincerla alla fine Avete partito un po' questo atteggiamento del Torre di Mazzari? Sapevamo che loro venivano a fare una partita fisica E noi abbiamo messo le nostre contromisure Il duello con Iago Falc come è stato? Un giocatore che dà un po' fastidio Penso sia stato un bel duello Comunque vissuto per tutti i 90 minuti Lui è un gran giocatore Penso di essere una giocata alla parte È stato importante per te che il mister ti ha riconfermato Dopo la bella partita di Roma? Sì, sono contento Mi ha dimostrato ancora che ha fiducia in me Adesso andiamo avanti dando sempre il 100% C'è stata anche quell'occasione con Belotti Lì sei stato decisivo Quando è partito il contropiede Penso solo a dare il massimo A dare il 100% Poi quello che arriva arriva Grazie 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 Grazie.